Sarà Porta Crucifera ad aprire la piazza nell'edizione numero 139 della giostra del Saracino dedicata a Leonardo da Vinci e che si correrà domenica 1 settembre in Piazza Grande. I paggetti dei quattro quartieri hanno estratto il seguente ordine, partenza per Porta Crucifera, poi sarà la volta di Porta Sant'Andrea, quindi di Porta del Foro, che a giugno è interrotto il suo lungo digiuno e quindi chiuderà la piazza, Porta Santo Spirito. Dal lunedì fino a giovedì al via le prove dei giostratori di riserva e dei titolari a partire dalle 16.30 fino alle 19.30. Venerdì alle 17, ultime prove dei giostratori titolari prima della prova generale che si terrà alle 21.30 e che sarà corsa dai giostratori di riserva. Sarà dedicata all'indimenticato rettore di Porta del Foro, Giancarlo Felici. Sabato 31, dalle 11.30 in Piazza San Francesco, la bollatura dei cavalli e l'investitura dei giostratori. Grazie.